Ieri sera la Cassazione ha in qualche modo smontato il procedimento nei confronti del sindaco Lucano, lei si è sempre schierato con Lucano e è soddisfatto di questo? Io sono schierato con Mimmo quando Mimmo lo conoscevano in pochi, quindi stamattina presto mi ha mandato un messaggio. Sono molto contento ma la battaglia è ancora lunga perché è un annullamento parziale, c'è ancora molto da lottare, ho sempre detto che colpire Lucano significa fare un favore all'andrangheta, l'ho detto il 4 agosto davanti a 500 persone a Riace insieme alla sindaca Colau di Barcellona e Mimmo Lucano, quando ancora non c'era la misura cautelare su Mimmo, bisogna lottare perché lo Stato si dovrebbe impegnare per sconfiggere mafia e corruzioni, non per colpire le persone dal cuore grande, dalla mente libera e dal coraggio come Mimmo Lucano e non solo Mimmo Lucano, come anche altri che quotidianamente vengono colpiti esattamente perché vanno in direzione opposta rispetto al sistema.